Non poteva non scaturire una settimana con stati d'animo diametralmente opposti il derby del San Vito Marullo ha vinto dal Rende per 3-0 sul Cosenza. Un risultato che si da un lato è un traguardo storico per la società bianco-rossa, dall'altro ha spaccato gli equilibri nell'ambiente rosso-blu. I play-off sono ad un passo per entrambe le squadre, ma in un campionato come questo è molto importante arrivarci nella maniera giusta, sia da un punto di vista mentale sia per la classifica. Sarà quindi importante chiudere bene il girone di ritorno per riuscire a piazzarsi più in alto possibile. A entrambe manca la vittoria casalinga da tempo. Per il Rende l'occasione di rompere il digiuno arriva già domenica con la formazione di Trocini che affronta l'Andria. E a proposito del tecnico, bisognerà capire se l'addio a Rende, annunciato ufficialmente proprio dopo il derby, genererà delle conseguenze anche su risultati e prestazioni, soprattutto in ottica play-off. Dovrà aspettare invece un'altra settimana il Cosenza per provare a centrare nuovamente la vittoria casalinga, ma intanto sul campo della Virtus Francavilla, oltre a esserci in palio la matematica e certezza di disputare i play-off, c'è anche in gioco la credibilità di una squadra agli occhi dei tifosi e dell'ambiente.